Grazie Presidente, ne userà molti di meno. Voglio ringraziare i colleghi del Partito Democratico per aver avuto la sensibilità di portare quest'atto in aula. È per noi un preciso dovere fare in modo che i ragazzi che frequentano la scuola e che hanno questa particolare forma di disabilità non vengano discriminati e possano seguire le lezioni, ma anche la vita sociale della classe nel modo più adeguato. Ovviamente l'utilizzo delle normali mascherine queste possibilità non le offrono, esistono però altri dispositivi. Poiché noi non vogliamo che alla loro disabilità si aggiunga anche l'emarginazione dalle lezioni e dalla vita sociale della classe, riteniamo che questa mozione possa essere valida e possa trovare applicazione. Ovviamente questa stessa problematica non deve essere solamente attuata e trovata le soluzioni da parte della singola amministrazione comunale, ma se vogliamo fare un discorso più ampio, stante il quadro di pandemia che ancora purtroppo ci assilla, è giusto anche che si portino queste istanze anche alle altre istituzioni di livello superiore. Quindi io ribadisco il nostro voto favorevole e ringrazio nuovamente i colleghi per la loro sensibilità. Grazie Presidente.